quando hanno vinto le legislative nel 2016, se non ricordo male, ma il cui risultato è stato devastante, perché da lì, dalla vittoria dell'opposizione nelle legislative al Parlamento venezuelano, dove praticamente l'assemblea legislativa è rimasta bloccata per tutto il tempo, ed è da lì che viene autoproclamato Guadò come Presidente interino del Venezuela. Adesso perché oggi non possono riconoscere, non possono legittimare ancora una vittoria di maturità in Venezuela? Anche abbastanza semplice, perché il Venezuela continua a essere vittime di misure coercitive unilaterali, l'oro venezuelano continua a essere rubato e sequestrato dalla banca nazionale inglese, la CITCO che è la filiale di Pedevesa, quindi come dire la Eni italiana del Pedevesi del Venezuela, CITCO continua a essere sequestrato negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti autoproclamando Guadò ci sono riusciti anche a rubarsi CITCO per i figliari di Pedevesa, quindi anche per tutti questi motivi loro non possono riconoscere nessuna vittoria di maturità. Adesso non sappiamo quanto durerà ancora questo tentativo di colpo di stanza. Quello che mi sento di dire è che i militari venezuelani, la FAMB, rimarranno fedeli alla Costituzione. Il problema sarà nelle strade, perché ormai è animi che l'opposizione venezuelana, l'estrema destra, i fascisti venezuelani, tramite l'ex governo colombiano, tramite la CIA, hanno forti comunicazioni col paramilitarismo colombiano, con mercenari che vengono portati dalla Colombia e Venezuela per creare il caos, per assassinare persone. E non dimentichiamoci che in questi giorni anche a Caracas sono stati attaccati tutti i vari leader del popolo, del quartiere, coloro che si occupano di distribuire il plato, sono successe tante cose. A livello legale e giudiziario, ieri, se non vado a dato l'altro ieri, Maduro ha dato al Tribunale Supremo di Justizia e al Tribunale Supremo di Justizia, Maduro dichiara che il PSOV è disponibile a portare gli atti di ogni seggio. Cosa vuol dire? Io lì sono stato un anno e mi hanno fatto fare l'osservatore elettorale in Venezuela. Devo dire che il sistema elettorale venezuelano è difficilissimo, quasi impossibile fare una prova del sistema elettorale in Venezuela. Praticamente ogni seggio dovrebbe avere i testimoni del PSOV, i testimoni dell'opposizione, il presidente di seggio. A fine elezioni ogni macchinario stampa un atto dove c'è scritto quanta gente hanno votato e come hanno votato. il problema è stato nella trasmissione di questi dati perché il sistema è stato tutto aggherato. Per ogni macchinario a suo anno. E quando corrisponde il numero cartaceo delle persone che hanno votato con il numero elettronico il seggio vuol dire che a posto. Per cui lo si vedrà. Non date rete ai giornali che tutto è stata una truffa. Perché il ciavismo ormai anni che ha quella forza elettorale lì. Se noi prendiamo tutto il registro elettorale, chi non vota e chi non vota, il ciavismo da anni vale più o meno il 25-30% dei voti di tutto il registro. Il che vuol dire che se vota il 60-65% degli aventi diritto, siccome il PSOE ha grande capacità di mobilizzazione e di portare la gente a votare, vince, arriva al 50-51% dei votanti. Quindi non è una novità e non è una sorpresa. Io vi ringrazio perché devo veramente scappare, sennò direi ancora qualcosa. Grazie a tutti. Grazie. Dai, con. Allora, come potere al popolo, da subito abbiamo espresso il nostro sostegno al popolo ciavista che ancora una volta nelle urne, così come anche nelle piazze di questi giorni, ha dimostrato da che parte sta. Ha dimostrato di essere contro ancora una volta quelli che vogliono riportare il Paese, il Venezuela, sulle strade dell'imperialismo, del colonialismo, del controllo da parte dell'Occidente e degli Stati Uniti. E quindi abbiamo espresso il nostro sostegno a questo processo di emancipazione politica e sociale che si è aperto ormai 25 anni fa e per l'ennesima volta gli Stati Uniti, con tutta la gran cassa mediatica occidentale, hanno tentato la destabilizzazione del Paese. Un tentativo che si accompagna, come dicevano prima, al costante tentativo di mettere in ginocchio, anche da un punto di vista economico, il Paese affamando il popolo con le sanzioni, ma nonostante questo il popolo ci ha visto ancora una volta, ha dimostrato da che parte sta e anche a noi in Italia tocca dimostrare tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà per un'ipotesi, un'opzione politica che nel mondo rappresenta una possibilità di un'alternativa sistemica alla barbarie dell'Occidente, dell'imperialismo, del capitalismo, che proprio quest'anno e in questi mesi si sta dimostrando in tutta la sua ferocia con quanto sta succedendo in Palestina con il barbaro genocidio del popolo palestinese ad opera dell'Occidente e del suo alleato nazisianista. Quindi ci chiediamo con quale faccia oggi anche la nostra classe politica in Italia che continua a sostenere da un punto di vista politico, da un punto di vista materiale e militare la barbarie di Israele criminale. con quale faccia si riempie la bocca ancora una volta, dal PD a Fratelli d'Italia, di difesa della democrazia, di trasparenza, di civiltà e punti il dito contro il Venezuela, quando proprio il Venezuela è uno dei pochi paesi nel mondo, anzi non pochi, ma appunto paesi lontani, lontani dall'Occidente che hanno dimostrato invece la propria vicinanza al popolo palestinese che hanno condannato Israele e che hanno anzi condannato anche l'operato dell'Occidente che continua a sostenere Israele. E la cifra politica poi di questa cosiddetta opposizione è che si sta scatenando con la violenza contro le sedi istituzionali nel Venezuela. Si dimostra anche guardando che cosa hanno combinato queste bande di criminali. Hanno abbattuto le state, le statue di Chavez, hanno abbattuto i simboli, i simboli dell'antimperialismo, i simboli di una storia di lotta contro l'imperialismo occidentale. E quindi noi, anche qui dall'Italia, sappiamo da che parte essere, sappiamo da che parte schierarci ed esprimiamo tutto il nostro sostegno al popolo venezuelano e al Presidente Maduro che rappresentano per noi la possibilità e l'esempio di un'alternativa da seguire anche qui nel nostro Paese. Chavez presente, Maduro Presidente! Chavez presente, Maduro Presidente! Chavez presente, Maduro Presidente! a chi ci accusa di essere di parte io vorrei dire che noi rivendichiamo di essere di parte perché ci sono momenti nella storia in cui si sceglie appunto da che parte stare quello che accade da 15 anni a questa parte in America Latina con il law fair, con la messa sotto accusa dei presidenti progressisti non graditi a chi vorrebbe che continuasse a essere il patio trasero il cortile di casa che abbiamo visto con Correa, abbiamo visto con Lula, con Dilma abbiamo visto il tentativo di colpo di Stato in Bolivia ma soprattutto vediamo il doppio standard dell'Unione Europea che io vorrei ricordarvi chi ha dimenticato il mitico Guaidò autoproclamato presidente che ha fatto un giro dal Parlamento Europeo al Parlamento Italiano per poi tornare esattamente nel luogo in cui doveva stare e sparire dalla storia allora noi per l'ennesima volta come Rifondazione Comunista siamo stati invitati come accompagnatori elettorali anche in questo processo e su questo vi invito questa sera alle 20.30 sulla pagina nazionale di Rifondazione Comunista a una diretta in cui il nostro responsabile Marco Consolo rientrato ieri ci spiegherà bene sia cosa è successo durante le operazioni di voto sia quello che sta succedendo oggi ma a me quello che preme è davvero ricordare quello che noi dovremmo fare da questa parte del mondo perché non basta essere solidali non basta continuare a guardare le rivoluzioni che fanno negli altri paesi dovremmo cominciare anche noi ad agire in maniera tale da avere la possibilità di mettere in pratica quelle che sono le teorie e il pensiero e le azioni del socialismo del XXI secolo perché a coloro che accusano il governo del Venezuela con in maniera mistificatoria iniziando qualunque articolo di giornale rifinendolo regime e quindi già prendendo una posizione vorremmo ricordare come è stato detto come funziona il sistema elettorale venezuelano quali sono stati i cambiamenti in Venezuela durante i governi del socialismo borivariano quello che invece noi dovremmo pretendere è l'eliminazione delle misure coercitive unilaterali le sanzioni imposte al Venezuela così come a Cuba che sono violazioni costanti dei diritti umani in Venezuela così come è accaduto in Iraq durante gli 11 anni di embargo non si può fare un attacco perché il sistema operativo è statunitense e non può essere aggiornato però di questo non si parla noi andiamo i nostri media la strumentalizzazione di quello che è la narrazione rispetto ai paesi che sperimentano una maniera diversa di praticare il socialismo deve essere stravolta allora ancora una volta non basta la solidarietà noi dobbiamo impegnarci per far sì che anche da questa parte del mondo si costruiscano rapporti e relazioni che permettano l'autodeterminazione dei popoli la realizzazione di società più giuste e più eque e anticapitaliste vi ricordo questa sera 20 e 30 sulla pagina di rifondazione un approfondimento da chi è appena rientrato dal Venezuela grazie ancora siamo qui oggi in presidio anche come cambiare rotta per portare la nostra ferma solidarietà al legittimo presidente democraticamente eletto Nicolás Maduro e al popolo ci ha visto che a milioni in questi giorni è sceso per le strade delle città velezzuelane per proteggere e difendere il processo rivoluzionario bolivariano di fronte al tentato golpe dell'ultradestra delle oligarchie del paese supportate dagli Stati Uniti e da tutto il blocco occidentale il blocco occidentale dimostrando il suo disprezzo per una reale partecipazione democratica e per contrastare la transizione al socialismo del Venezuela ha fatto partire la sua spietata macchina mediatica supportando di fatti i fascisti colpisti che ha gridato e grida al droglio elettorale droglio che sappiamo benissimo non esserci stato come confermano decine di osservatori internazionali di presenti siamo qui davanti al consolato statunitense in quanto simbolo del barbaro imperialismo euro-atlantico e dei suoi continui tentativi di destabilizzazione nei confronti di chi sta costruendo con successo e nonostante le difficoltà imposte dalle sanzioni occidentali una reale alternativa alla barbaria del capitalismo in questa ottica non possiamo non denunciare anche il governo italiano che negli ultimi giorni ha dimostrato ancora una volta di sposare e anzi essere attivo promotore della narrazione sul droglio elettorale e sul cosiddetto autoritarismo di regime di Maduro membri del governo come italiani hanno non solo rifiutato il risultato di un processo elettorale veramente democratico ma addirittura criminalizzato le misure prese dal governo di Maduro contro il tentato colpe di Stato apertamente supportando in questo modo i guerri in berce fascisti che hanno messo in atto il golpe e una campagna di destabilizzazione del paese tra cui il terrore nell'estrale e la distruzione dei singoli della rivoluzione bolivariana col piede supporto delle potenti imperialistiche il nostro governo così come tutta la sinistra occidentale schierandosi come ha fatto contro i risultati elettorali e quindi contro la transizione socialista del Venezuela mostra la sua vera natura di fieri gendarmi dell'imperialismo noi non ci stiamo e portiamo tutta la nostra solidarietà al popolo venezuelano che si dimostrata ancora una volta un popolo cosciente e determinato a dipendere il processo rivoluzionario bolivariano di transizione socialista questa coscienza e questa determinazione spaventano i paesi imperialisti giustamente li spaventano perché sanno che paesi come il Venezuela paesi come il Cuba socialista rappresentano l'anello debole dell'imperialismo per questo motivo per noi comunisti paesi come il Venezuela paesi come il Cuba sono un paro di speranza e di civiltà per il riscasso del sud globale dei popoli del tricontinente così come delle fasce popolari dei lavoratori delle giovani generazioni anche qui da noi nel cuore dell'imperialismo con la loro lotta all'imperialismo con la loro lotta all'imperialismo con la promozione di un mondo multipolare con l'impegno internazionalista plasticamente dimostrato nel cieco sostegno alla resistenza palestinese contro il genocidio a Gaza di fronte al quale il blocco occidentale continua a chiudere gli occhi e ancora con le riforme sociali e economiche veramente progressiste portate avanti da Ciavezzieri da maturo oggi la Repubblica Bolivariana del Venezuela ci mostra la via per la costruzione di un'alternativa alla barbarie per la costruzione di una nuova umanità al fianco di Maduro Presidente con Ciavezz Presidente viva il Venezuela viva Ciavezz viva la rivoluzione bolivariana Maduro Presidente Ciavezz Presidente Ciavezz Presidente Maduro Presidente Ciavezz Presidente Maduro Presidente Ciavezz Presidente Maduro Presidente Maduro Presidente Ciavezz Presidente basta, basta ragazzi stiamo parlando il mondo dai come posizione studentessa dell'alternativa siamo il nostro popolo chiamista in Venezuela e a Nicola Maduro nelle elezioni di eletto Presidente portando avanti la rivoluzione bolivariana con un costante carattere socialista antimperialista vediamo come il popolo venezuelano si stia mobilitando in sostegno allo PSUV e al Presidente Maduro e contro gli oligarchi e le loro squadre di agitatori che vogliono il Venezuela come una colonia di USA nel nostro paese stiamo assistendo ad una vera e propria guerra di propaganda contro il Venezuela boliviano in sostegno delle forze razionarie e fasciste che agiscono con violenza contro le istituzioni pubbliche del paese e fondamentale sostenere la lotta al popolo chiamista per smascherare la propaganda imperialista in continuità con la lotta internazionalista verso la Palestina i popoli rivolta scrivono la storia vuole il Venezuela fino alla vittoria i popoli rivolta scrivono la storia vuole il Venezuela fino alla vittoria ciao a tutti G. Bertolossi per la Federazione dei Verdi e anche per l'Alleanza Verdi-Sinistra è già stato detto tutto io penso che il Venezuela sia un esempio culturale senza fare una lezione di politologia però tutti ci insegnano che in Cile sono intervenuti con un colpo di stato militare mentre in Venezuela si trattava di soft power era la capitale delle telenovelas poi lo sappiamo il Venezuela ricco di materie prime e tutto quello che questo sembra anche un po' i nodi che vengono al petto perché quello che sta avvenendo in Venezuela su queste elezioni oltre 100 osservatori tra l'altro invito anch'io a sentire stasera alle 8.30 la pagina Facebook di Rifondazione Comunista perché andiamo a ricordarci una cosa in Italia che tutto va bene le elezioni del 4 marzo del 2018 per 48 ore per 48 ore scompaiono i risultati elettorali italiani questo in Italia 6 anni fa niente c'è poco da dire c'è da sostenere con esempio e con determinazione il popolo venezuelano la rivoluzione bolivariana un'altra cosa però mi sento di dirla visto che abbiamo accennato a soft power il primo provvedimento del presidente Chavez ogni 10.000 abitanti una stanza bianca un microfono e una videocamera raccontatevi voi la vostra vita così una televisione locale per il popolo basta con la propaganda grazie a tutti di essere contenti in sinistra con il popolo venezuelano per Maduro presidente grazie a tutti